Tv6 Bentrovati, telespettatori di Tv6, all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 20 luglio. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa debole perturbazione a avvicinarsi alle regioni del nord Italia. Tuttavia, al centro-sud avremo ancora condizioni di tempo stabile. Nel dettaglio, sull'Abruzzo al mattino, le condizioni atmosferiche si presenteranno stabili e soleggiate su gran parte del territorio regionale. La ventilazione risulterà debole dai quadranti meridionali e mari saranno principalmente calmi e a limite poco mossi. Nel corso del pomeriggio, le condizioni atmosferiche non vedranno grosse variazioni. Tuttavia, assisteremo ad un aumento della nubilosità su gran parte del territorio. I cieli, infatti, risulteranno prevalentemente poco nuvolosi. Le temperature massime, inoltre, risulteranno in aumento con valori compresi fra i 29 e i 31 gradi centigradi. In serata, le condizioni atmosferiche continueranno a presentarsi stabili e caratterizzate dalla presenza di cieli principalmente sereni o a limite poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.